Oggi è un successo perché abbiamo una vasta partecipazione, anche se ci si auspica che questo lavoro venga riproposto anche in altre sedi per far sì che l'evangelizzazione del dialogo, del confronto fra le varie parti sociali sia sempre di auspicio per risolvere le problematiche del nostro territorio. Oggi è finalizzato alla risoluzione della crisi di impresa, che noi stiamo cercando di istruire i nostri politici, gli amministratori in maniera tale di andare presso le aule parlamentari a chiedere e a proporre le esatte esigenze del territorio, senza fare una politica avulsa da quello che è il bisogno del popolo locale. Monsignor Cruciata, crisi di impresa, come diceva l'ingegnere vuol dire anche crisi di lavoro, ma a questo punto vuol dire anche una crisi di valori. Io sono stato chiamato per sottolineare l'interazione tra questi fenomeni. Certo, l'impresa richiama l'economia, la finanza, eccetera, però non si deve mai dimenticare che qualunque cosa noi siamo chiamati a fare nella società deve avere la capacità di relazionarsi, di rapportarsi con le altre realtà, con gli altri fenomeni sociali, compresa la cultura, la religione, la politica, la morale. Perché siccome tutto sta insieme o tutto crolla, noi dobbiamo cercare questo tipo di relazione, farle diventare sempre più intense, più profonde e così è l'intera umanità e l'uomo nell'intera sua natura che si esplicita in varie modi, anche facendo l'impresa. Grazie a tutti.